Si scrive Sblocca Italia, si legge Sblocca Sud. È il commento del governatore del Veneto Luca Zaia sul decreto, varato nelle scorse ore dal governo Renzi. Per l'amministratore leghista ci vuole un bel coraggio a definire, come fanno gli esponenti locali del partito del Premier, un successo per il Veneto, i provvedimenti presi dall'esecutivo. Usa la metafora culinaria perché, dice il numero uno di Palazzo Balbi, volevo verificare che oltre al fumo ci fosse anche l'arrosto, magari nascosto tra le pagine dei provvedimenti renziani. E invece, con i tecnici della regione, ha scoperto solo tanto fumo per lo più precisa Zaia, nero e irritante. Attacca a testa bassa il presidente della giunta regionale. All'alta velocità ferroviaria Milano-Venezia osserva Zaia, si preferisce la Napoli-Bari. Della modernamento delle reti regionali delle FS del nord-est, che portano ogni giorno milioni di pendolari nelle fabbriche, non si trova traccia. Però si aprono i cantieri della Palermo-Catania-Messina, mentre i tanto decantati investimenti per l'aeroporto Marco Polo altro non sono che soldi dei privati che il governo si rivende come suoi. Il presidente Veneto prosegue nell'elenco delle mancanze a suo avviso nel decreto. Nel settore stradale precisa la defiscalizzazione della Orte Mestre pareva essere un fatto già acquisito. Non si capisce poi quali strumenti si intendono attuare per il completamento della terza corsia della Mestre Trieste. La Val d'Astico è desaparecida perché, si dice, è già interamente finanziata. Il problema è che i soldi arrivano sempre dai privati. Insomma, per Zaia il Natale è arrivato con quattro mesi di anticipo. Per le regioni del sud tanti regali, mentre al Veneto un sacco pieno di carbone.